Non c'è niente al pub Eh no niente E anche di sopra? No no vado alla polizia Una boraccia Ah c'è una pala se volete Alla station poliziai No Alla station poliziai Alla station wagon Uh un raincoat giallo Una banana Ah ma sei tu qui Chi è questo qua dentro Ah io li conosci No no perché Pensavo che eri andato via con lui Io l'ho chiamata farmacia questa Ah Non ti faccio uscire finchè non ho mangiato il mio peperone Vado alla poliziai Allora buttiamo via questi affari qua tanto io Non li uso Abbiamo spazio per Oh hanno cambiato di nuovo I co Come non li usi non la bevi testa a bibita Ah no quella che mi interessava Ah ok Ho trovato uno sporter qui Un kiwi Cavoli adesso si trovano sardine come Ma anche prima si trovano Uh epifedrina E i ragazzi che non la vedono mai Epinefrina Epifedrina Eh lo so Ma ormai mi sono chiamata Tradurre dall'inglese Cioè in modo letterale non è sempre La cosa migliore da fare Wow 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 Uno qui è morto però c'è tutta la roba Per terra c'è un M4 Sai quella borsa militare Oh shit Qui alla poliziai Andiamo andiamo Ma sei sicuro che sia di qua La poliziai Mi sa che stiamo andando un po' dalla parte Qua dovrebbe essere qua sulla sinistra Eccola la Lasciaci un po' di loot Polpi anfibie Compi 9mm Qualcuno servono? No mi servono i polpi del SKS Ho le manette Ho il mirino super figo Quei puntano vacca Porca loca Sono Ma che piano è il tizio? No no Non c'è il tizio Ci sono gli oggetti per terra Ah C'è uno zaino per terra L'hai preso No no Sto prendendo io che E' sulle scale qua lo zaino Si si l'ho visto Ma gli oggetti sono Sopra Perchè sotto ci sono degli altri oggetti Ho anche la pistola a carica Pristine Uh sul tetto c'è un'altra doppietta La volete? Si volentieri io che non andrò da fuoco Venite venite a prenderla Tiralo Sto arrivando adesso Oddio Fantastico Ma cosa avete fatto? Vedete fuori? Cosa? Guardate che effetto che ha da fuori Ok arrivo aspetta tu rimani qui Voglio vederlo aspetta arrivo Eh l'ho buttato Adesso andiamo a vedere Mio dio Cos'è sta roba qui? Ah è la roba che avevo lasciato su E' venuta qui Oddio guarda passa attraverso Oh c'è un player C'è un player C'è un player Ah è il ragazzo di prima Ehi Oh mio dio Ok non c'è nessuno intorno Se è lui che voleva ammanettare Ammanettalo Ammanettalo Siamo la F.B.A. No Questo è F.B.A. Il parlare Mi prego il suo snap loader Fantastico vai Quando hai ciao Mi prego il suo snap loader No questo è F.B.A C'è lui Ragazzi è un più scope Ve li hai dovuto a terra Oh FERGIO Il più scope l'ho metto nel mio Sì 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 le mettonneérie Oh, io controllo la zona. Faiolette. Dove l'hai chiamato? L'hai chiamato, volevi l'ammarattamento? Hey man, ho la chiamata, non ti preoccupi. Se stai qui... 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 No! No! Non sparare! Perché è bugato, è bugata l'arma quando la taglia certe volte. No, poverino! Se stai qui... Se stai qui... Non ho neanche ucciso io! Oddio! Ho sbagliato, volevo fare... Sono abituato alla mod! Ok, no pulse! Oh, qualcuno... Qualcuno mi dà le manette di nuovo! Qualcuno mi dà le manette? Eh, io le ho perse, non le trovo! Ah, non posso più prenderle in mano! Poi si consuma! Ah no, posso prenderlo! Oh, dai lui non esce la luce, ma dai pavimenti si! Sparo due colpi a caso! Non tenerlo in mano, ci fai sgammare! 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 Ho dovuto farlo! Ho dovuto farlo! Siamo degli omicidi! Siamo degli omicidi! Meglio ho sparato due colpi, gli ho anche rovinato la roba, ma non era morto! Te l'ho detto! C'è un bug! C'è un bug, se taglia il fucile, non spara... C'è spari, ma non riceve il colpo il personaggio! E perché non ti hai detto prima che lo tagliarsi? Eh, non pensavo che non succedeva con questa nuova pace! Invece succede ancora, ed è bruttissima sta cosa! C'è succede una volta su dieci tipo! Stavi dicendo? Di notte con il flare qui nella torna! Mamma mia! Bellissimo! Andiamo a cercare altre case! Io giro col flare! Sì, vabbè! È un rito, è un rito satanico! No dai! No dai! Ma che cazzo! C'è ancora qualcosa qua in giro! C'è ancora qualcosa qua in giro! Io lo butterai in mezzo al bosco per vedere come ti vede! In mezzo al bosco? Va bene! Perché vedi che è tutto oscuro! Potremmo, tipo, metterlo di notte nella strada principale! Ci appostiamo con il Mosi, il primo che lo raccoglie! Sparapum! Ok, lo butto! Uh, bellissima animazione! Ok, l'ho buttato! Vedete a vedere? Sono qui! Sì sì, lo vedo! Bello, bello! È bellissimo! Tipo stai con il cecchino da lontano! Viene uno incuriosito a vedere! Boom! Adesso noi abbiamo fatto la stessa cosa che ho detto io! Adesso qualcuno ci spara! È bello che continua ad andare! Quanto tempo andrà? Sì, non dura n... Ah, ma è vero che c'ho una pistola! Che dico che non c'ho nessuna arma! Eh, è la legge del più forte! Ah, venite a vedere! Venite a vedere vicino da me! Venite a vedere! Sì, c'ha il silenziatore! No, no! No, guardate! Ehi! Guardate! Eh, ammazza lo zombie piuttosto che guardare! Guardate! Guardate la torcia! Ora funziona la torcia! Hai visto? Ma anche prima funzionava! Non è sempre il da! No, non è sempre il da! Ciao! 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 FBi! FBi! Non si muove! FBi! FBi! Siamo USA! Siamo americani! Non si muove! FBi! Ma non! Perché! Ma non è giusto! Ma non è giusto! Ah! Ma dai! Ma che cacca... Ma ci sono troppi banditi su dei sism! Ma se tu volevi! Se tu stavi a manettare! No, non c'ho le manette, non volevo uccidermi Volevo recitare un po', brutto stupido Volevo provare l'arma con uno che non aveva niente da perdere Vabbè, andiamo Ma qui se ne andiamo C'è un tipo, c'è un tipo Oh, dove, dove? Là in fondo Ok È armato È questo dritto, dritto di qua Ok, allora dividiamoci Uno sta a destra, uno in mezzo, uno a sinistra No, no, no Hello, hello, hello No, 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 we don't shoot, we don't shoot Ok, ok, we are friendly Oh, guardatevi, guardatevi intorno, guardatevi intorno nel frattempo Jumbo, tu guardate la destra e la sinistra Si sta guardando qua a destra, in mezzo ai cantieri, prima che arriva Cacchio, non c'abbiamo le manette Ma comunque non è che abbia roba interessate Mi è armato? All'asporto Si, ma, si ma roba a noi Oh, zombie, zombie Zombie dietro C'è un zombie, stiamo shooting il zombie C'è un zombie C'è un zombie C'è un zombie In mezzo ai cantieri sembra non esserci nessuno, eh From where? Oddio, c'ho delle manete Lithuania Europa Transilvania Oh, trans What? My friend, what? Oh mio dio Ah no, merda, è ruined Lithuania È ruined, ma non po' Australia È vero, sono rovinate Ok, ha detto Australia Ah, Australia Oh, wow, wow Don't kill me No, è solo un... 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 No, no, sta sbloggando It's not sbloggando Non è sblogg, eh Sta sbloggando No, no, si sta abbassando come... Don't log out, don't log out, please Sit down, press F3 F3, F3 And press F2 F2, press F2 Press F2, press F2 now F2 F2, F2 Voglio solo vedere cosa ha dentro F2 and sit down, now F2 and sit down Press X, press X, press X, then F2 No, F and X Press F2, now press X Now press X Ok, no È perché tu gli hai detto F3 e poi... È perché sa che il suono arriva in ritardo No, non si riesce a vedere Serve un po' forte le monette No, no, serve le monette Oh, mi rispettate All'uomo, tes... Ecco così si fa All'uomo, asia All'uomo All'uomo No, no, no Do it I'm becoming crazy Non do it Non do it I'm shooting Drop everything Drop everything Oh, nein, come, my friend Come, my friend Ciao, ciao, ciao All'uomo Oh, il glow, il glow! Guarda quanto mangiare che c'ha questo Lo facciamo io in gordia Oh, il flare, il flare Drop your... Drop your... Drop your helmet Drop your helmet Ma perchè il fer non posso prenderlo? Eh prendi un po' da mangiare da dire Runaway 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 Come on Runaway 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 Basta 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 Bellissima la pistola Sì sì veramente è bellissima la pistola Scusami Io però piuttosto che arrendermi così Piuttosto che mi faccia amare Oh sta arrivando a spazio Aspetta vai via vai via che lo uccido io Lo uccido io Vai via vai via Vai via Wow ha fatto wow I'm sorry my friend I'm so sorry my friend È un idolo è un idolo Cazzo ma avete Ma perché la mia giacca è così rovinata? Porca miseria Perché ti ha tirato pugna manetta Ti ha tirato una cartella Prendi il suo Ha la giacca come la tua ma verde qua È pristine Va bene Wow veramente Ok copritemi le spalle Por favor Por favor Ok Se comunque ci sta Perché non mi fa prendere il suo flare? Ma dove sei? Ma domanda come sei mimetizzato Sì? Sì sembriamo morto Good 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 Prendi il tuo flare A me non lo fa prendere Eh neanche a me non me lo fa prendere Non capisco come Ah l'ha preso lui Nel caso Oh sto qua è morto due secondi fa È già unknown entity Due secondi fa è morto È morto due eroi però L'avevo detto Sì io piuttosto che morire Infatti l'hai chiamato Uh guardate Venite a vedere Venite a vedere la pistola come è figa Lì dove l'ho messa Che hai buttato giù la pistola? No non l'ho buttata giù Ah adesso l'ho buttata giù Sì Oddio Ah voglio metterla dentro all'holster Peccato che la maletta sia ruined Vabbè Oh non mi fa ricaricare Perché? Guardate come strago la pistola Yeah Hai visto anche più veloce? Sì sì lo so Era uno dei miti Estrazione rapida Yeah Ciao Ciao Ciao